Musica E' stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Roma il corpo dell'84enne Civite Vecchiese deceduto venerdì scorso a seguito di una serie di lesioni delle quali non è stata ancora stabilita l'entità. Dall'esame autoptico disposto dal magistrato che sta conducendo l'inchiesta si attendono riscontri definitivi riguardo le cause che hanno determinato il decesso dell'anziano. Sarà l'autopsia che verrà disposta oggi dal magistrato che sta conducendo l'inchiesta a chiarire ulteriormente e definitivamente le cause del decesso dell'84enne Civite Vecchiese morto nella serata di venerdì scorso in seguito ad una serie di lesioni di cui non si è ancora stabilita l'origine. L'anziano era stato rinvenuto domenica scorsa nella sua abitazione in una pozza di sangue. A ritrovarlo dopo aver inutilmente cercato di mettersi in contatto con lui era stato il figlio successivamente indagato per tentato omicidio dai carabinieri. Proprio i tecnici del RIS e dei militari avevano condotto una serie di rilievi avvalendosi anche del luminol per chiarire le cause delle lesioni riscontrate sull'anziano e dei quali si attendono ancora i risultati. Adesso la parola fine su questa parte dell'inchiesta potrà essere comunque scritta dall'anatomo patologo dell'Istituto di Medicina Legale della Capitale dove è stato già trasferito il corpo dello sfortunato anziano che potrà chiarire l'origine delle lesioni. Dall'esamo toptico infatti il medico potrà avere un quadro di riferimento più preciso rispetto in particolare all'origine delle ferite riscontrate sul capo dell'84enne. Ai fini dell'inchiesta avviata subito dopo il rinvenimento dell'uomo nella sua abitazione risulta fondamentale comprendere se quel tipo di ferite sia o meno compatibile con l'impatto verso un mobile o il pavimento successivamente ad una caduta o se viceversa possa essere stato prodotto da un corpo contundente. Un vergognoso episodio di razzismo avrebbe visto come vittime due ragazzi civita vecchiesi di origine africana che giocano nella formazione Under-19 del dopolavoro ferroviario. Il fatto sarebbe avvenuto ieri mattina a Civita Castellana durante e al termine dell'incontro giocato nella cittadina della Viterbese nel quadro del campionato provinciale a Girone Unico. Stando al racconto di quanti erano presenti al match durante la partita e soprattutto alla fine sarebbero stati rivolti pesanti insulti razzisti verso i due ragazzi di colore della DLF soprattutto da parte di un giocatore della formazione avversaria. Proprio a causa del brutto episodio di razzismo si sarebbe sfiorata più volte la rissa. Adesso bisognerà vedere se i fatti, così come raccontati, troveranno riscontro nel reperto arbitrale quali saranno gli eventuali provvedimenti del giudice sportivo. Non solo il raddoppio del costo per i croceristi che dovranno sborsare ben 6 euro se utilizzeranno il bus di CSP per trasferirsi dal porto alla stazione, le nuove tariffe del trasporto urbano fissate a fine 2022 dal Palazzo del Pincio prevedono aumenti anche per le corse utilizzate normalmente dagli utenti. Proprio gli utenti hanno voluto segnalare una situazione che non porta benefici alle loro tasche. Una stangata vera e propria per il trasporto urbano. Ad affermarlo sono stati alcuni utenti che si sono rivolti al TRC giornale lamentando l'aumento delle tariffe, giudicato eccessivo, entrato in vigore lo scorso 1 gennaio. CSP, la società in house che gestisce il trasporto pubblico locale in città, ha recepito dall'inizio dell'anno le indicazioni arrivate da Palazzo del Pincio attraverso le delibere numero 227 e 228 del 6 dicembre 2022, modificando le tariffe con l'inizio del nuovo anno. Si era soprattutto parlato del raddoppio della tariffa a carico dei croceristi, passata da 3 a 6 euro per il tragitto dal porto alla stazione, ma non delle normali corse per gli utenti che risiedono in città. Ebbene la corsa da 90 minuti è passata da 1 euro a 1 euro e 50 centesimi, che diventano 2 euro e 50 centesimi se il biglietto viene staccato a bordo del bus della linea urbana. Non esiste più il biglietto giornaliero, mentre l'abbonamento mensile ha un costo variabile da 20 a 30 euro, a seconda se si tratta di una o due linee e quello annuale varia da 192 a 240 euro. Cifre che risultano più vicine a quelle praticate a Roma da Atac rispetto a quelle di altre realtà di provincia, come ad esempio Viterbo e Frosinone. Nel capoluogo della Tuscia il biglietto singolo costa ancora 1 euro, quindi 50 centesimi in meno rispetto a Civitavecchia e se fatto a bordo arriva a 1 euro e 50. È possibile avere un biglietto giornaliero venduto a 2,30 euro o 2,50 se fatto a bordo, mentre l'abbonamento mensile costa 25 euro e quello annuale 250 euro. Simili le tariffe di Frosinone, col biglietto singolo che costa 1 euro, 2 euro a bordo, quello giornaliero 3 euro e con gli abbonamenti venduti a 25 e 250 euro se sono mensili o annuali. Diverso il discorso della Capitale, dove il biglietto singolo costa 1 euro e 50, quello giornaliero 7 euro, mentre gli abbonamenti mensili e annuali costano rispettivamente 35 e 250 euro. Insomma, a Civitavecchia non sembra particolarmente conveniente usare il mezzo pubblico, alla insufficienza delle linee che non passano frequentemente come ad esempio a Roma e alle altre manchevolezze del servizio si somma adesso anche il costo. Non il miglior incentivo se si ragiona nell'ottica di scoraggiare l'uso del mezzo privato per ridurre l'inquinamento atmosferico che in città, come dimostrato da studi più o meno recenti, viene equamente diviso tra centrali, porto e traffico veicolare. Il comune assegni definitivamente la gestione del parco Spigarelli prima che sia troppo tardi. A dieci mesi dall'inaugurazione, la grande area verde che si trova nel quartiere di San Gordiano, tra le migliori opere pubbliche realizzate grazie ai fondi Enel relative alle compensazioni ambientali, comincia a dare già segni di cedimento. Si tratta di segni di cedimento conseguenza dell'uso quotidiano da parte di centinaia di utenti e della mancanza di controlli e manutenzioni quotidiane. A dare i primi problemi sono soprattutto le strutture che si trovano nell'area riservata ai bambini. Giochi rotti e già interdetti all'uso e un'altelena traballante diventata oltremodo pericolosa stanno a testimoniare l'urgenza di intervenire quanto prima affinché il parco torni allo splendore iniziale e non a degradi ulteriormente. 206 nuovi positivi a fronte di 57.500 tamponi effettuati e un decesso e il riscontro settimanale del Covid nel territorio dell'azienda sanitaria locale Roma 4 sulla base dei report che quotidianamente continuano a essere diffusi dall'assessorato regionale alla sanità. I numeri sono pressoché identici rispetto alla settimana precedente. Si è infatti avuto un nuovo caso in più visto che dal 23 al 29 gennaio le nuove positività riscontrate erano state 205 con un numero di controlli pressoché analogo. Bassa anche la percentuale dei nuovi casi rapporto ai temponi inseguiti. Rimasta per gran parte della settimana sotto la doppia cifra. Un incremento si è registrato nelle giornate di sabato e di ieri quando il tasso è stato rispettivamente del 12 e del 10 per cento. Ma prima di parlare di un possibile incremento è opportuno attendere qualche altro giorno. È stata una settimana interlocutoria a Civitavecchia, quella appena trascorsa sul piano ambientale. Il consueto report pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto all'analisi precedente. Le uniche differenze, anche se non sostanziali, hanno riguardato i biossidi di azoto leggermente in crescita e le polveri in modesta discesa. Biossi di su ma non troppo e particolato giù ma non troppo. Sono questi in estrema sintesi gli elementi più importanti che scaturiscono dalla lettura dei dati contenuti nel report settimanale sull'inquinamento a Civitavecchia pubblicato sul sito di Arpalazio. Così come avviene ormai da parecchie settimane, i livelli dei diversi inquinanti sottoposti a controllo nelle diverse centraline sparse nel territorio cittadino sono abbondantemente al di sotto dei limiti di allarme fissate dalla legge. Nello specifico per quanto concerne i biossidi di azoto, il cui valore massimo fissato dalla normativa vigente è di 200 microgrammi, la media è stata di 16 microgrammi al porto, di 36 a Villa Albani, di 22 in via Morandi e di 46 in via Roma. Molto bassi i valori del particolato, ovvero del PM10, con una media di 9 microgrammi rilevate al porto e di 12 nella centralina di Villa Albani contro un limite massimo fissato a 50 microgrammi. In aumento rispetto ai precedenti report i valori relativi al monossido di carbonio in via Roma rilevato a 0,5 microgrammi. Il monossido è invece stabile nella centralina di Fiumaretta dove è stato misurato a 1,3 microgrammi, sempre a Fiumaretta in crescita al valore del benzene passato da 0,4 a 0,7 microgrammi. Situazione stabile anche nei diversi quartieri cittadini. Per quanto riguarda i biossidi di azoto si va dai 5 microgrammi di Aurelia e Sant'Agostino agli 8 di Fiumaretta, ai 9 del Faro e 13 di San Gordiano e Campo dell'Oro. Per il particolato si va invece dai 9 microgrammi di Sant'Agostino, Campo dell'Oro e Fiumaretta, ai 10 di San Gordiano e gli 11 del Faro. Non disponibile il dato di Aurelia. Bassi infine anche i livelli delle polveri ultrasottili, il cui valore massimo non deve superare i 25 microgrammi che sono stati misurati a 6 microgrammi a Campo dell'Oro e a 7 al Faro e a Fiumaretta. Il Civitavecchia deve ancora attendere per conquistare la prima vittoria del 2023. Ieri pomeriggio al Tamagnini è arrivato un pareggio che non serve a molto per i nerazzurri che hanno impattato solo 1-1 contro la capolista, anzi o nella quarta giornata di ritorno di eccellenza. La partita è stata equilibrata e con poche occasioni da gol, sbloccata a pochi secondi dalla fine del primo tempo da proietti con un calcio di punizione. Nella ripresa è arrivato il pareggio degli ospiti. Il Civitavecchia rimane terzo a meno 8 proprio dall'Anzio e con due punti di ritardo dal centro sportivo Primavera, che sarà il prossimo avversario. Aspettative purtroppo rispettate al palasorbo di Ladispoli. La 3PC Civitalada ha ceduto per 3-0 ad Empoli, seconda forza del campionato di Serie B2. Una gara che è stata sempre in mano nei primi due set alle giocatrici e avversarie, mentre nel terzo le padrone di casa erano riuscite ad andare in vantaggio anche di 3 punti prima del recupero delle ospiti. Va rimarcato che la Civitalada ha dovuto fare anche a meno delle infortunate Bociagova, Giulie e Spalletta. La classifica è sempre negativa per le ragazze del consorzio, che sono ancora ultime. Settima sconfitta nelle ultime 8 partite per la Semar 90 cestistica nel campionato di Cigold. Ieri pomeriggio al Palaricucci si è imposto il basket Frascati, uscito vincente per 82-73 al termine di un match condotto sin dall'inizio. A differenza di altre circostanze nelle quali la formazione rossonera aveva comunque lottato e magari perso solo nel finale, ieri la prova di Campogiani e compagni è stata opaca, come se la squadra, adesso nona in classifica, avesse già la testa nella seconda fase del torneo, che inizierà a marzo. Si sapeva che non era una gara facile e tutto è stato dimostrato. Successo a fatica per la Fuzza al Civitavecchia, che alliva i lottatori a sconfitto di misura per 3-2 il affannellino di coda atletico Tor Marancia. Il quintetto allenato da Umberto Di Maio, che aveva chiuso il primo tempo in parità, è riuscito a guadagnare il vantaggio nelle battute finali del match. Protagonista del successo Mondelli, autore di una doppietta supportato dal gol di Lavalle, con la vittoria di sabato la Fuzza l'ha aumentato a 4 i punti di vantaggio sulla zona play-out. Serata d'onore per gli snipers techno-alt in Serie B, che al pala Mercuri hanno sconfitto la capolista Fox Legnaro, imponendosi per 6-3. Dopo lo svantaggio iniziale, Nerazzurri hanno preso in mano la partita andando a segno con le doppiette di Lepore, Cocino e le reti di Valentini e Mercuri. Con il successo ottenuto, gli snipers techno-alt si sono portati in testa la classifica in compagnia del Forlì, in un campionato dove tutti hanno già vinto e perso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie a tutti!